Rieccoci l'appuntamento, il sindaco risponde, non vado oltre perché giustamente durante la pubblicità Michelezzi ha detto voglio rispondere alla signora Sanna perché sembra che facciamo i lavori così per caso e quindi invece si è arrabbiato e ha ragione e quindi è giusto Si è arrabbiato nel senso che voleva permettere la risposta Allora, se un cantiere mi dura 8 mesi non può finire prima è un problema se perdura più tempo quel cantiere è perfettamente nei tempi così come altri dopodiché l'atteggiamento di tutti è quello che siccome un cantiere dà fastidio crea disordine, crea impaccio perché lavoriamo in strada anche dopo due mesi un cantiere che dura 8 mesi vorremmo che fosse già finito e lo percepiamo come lungo quel cantiere è perfettamente in regola e anche sugli esempi che faceva prima lei è vero che abbiamo alcune situazioni che sono un po' delle storie infinite pensiamo all'ospedale, al tram la Prandina è vera in parte perché si è discusso 30 anni però almeno questa amministrazione ha avuto il merito di averla acquisita ora servono i finanziamenti e ingenti per poter iniziare dei lavori e non è che avere i soldi uno fa tutto dobbiamo reperire i finanziamenti su questo ma abbiamo tante opere che viaggiano regolarmente magari come Ponte Corvo anche un'opera regolare comunque disturba e quindi la percezione è che ci si metta molto tempo un altro caso è Piazza Mazzini si discute ogni tanto come mai non finiscono i lavori ma alla fine i lavori è programmata per la primavera prossima in realtà noi apriremo la piazza probabilmente anche prima ma evidentemente la sensazione di tutti è che quando c'è un lavoro se come disturba vorremmo che finisse presto quindi è vero che in città abbiamo come dire situazioni che perché magari si ritrova dell'amianto perché ci sono dei problemi nel cantiere che durano per tanto tempo alle volte la politica invece perché l'ospedale è diventata la storia del signor Intento perché la politica purtroppo prima l'ha destinato in un punto poi l'ha spostato in un altro e poi in un altro ancora e in questa città si è parlato per anni di ospedale senza mai come dire poi andare a mettere sui binari di partenza un'opera che comunque sarà un'opera colossale quindi noi abbiamo come dire i nostri cantieri i nostri progetti che vanno a rilento abbiamo tante opere anche che viaggiano bene pensate il ponte su via Vigonovese fatto in tempi record o alla piazza De Gasperi realizzata anche quelli anticipando i tempi di cantiere la piazza in Viadini-Tartaglia e tante altre situazioni che quando ci sono disturbano però poi abbiamo una situazione che è migliorata, riqualificata le ho dato il tempo dovuto grazie no perché poi magari solo che delle volte le chiedo veni anche Michalicci perché io quando vedo la televisione Marabbio nel vedere uno che viene interrotto per la televisione dei tempi e che conduce purtroppo l'obbligo di interromperla che non è bello però è dovuto perché altrimenti io e lei stiamo qui ragioniamo tutta la trasmissione su quella rotonda di Ponte Corvo che magari sarebbe giusto però la televisione ha altri tempi quindi è così e non so se ci sono dei messaggi avevo visto una sfuggita messaggi ancora chiedo alla regia se ci sono se li mettiamo in un eccolo qui vai Elisabetta io chiedo rapidità nel leggerli e rapidità anche all'assessore e al vice sindaco nella risposta prego primo messaggio ho già provveduto a mandare una mail in via Visentin una traversa di via Maroncelli dove in questi giorni si stanno effettuando dei lavori di rifacimento pista ciclabile e parcheggi l'illuminazione è molto pericolosa per l'incolumità delle persone per cortesia potete intervenire? ho già risposto a questa domanda sul lato però via Manara la riqualificazione di via Maroncelli prevede il rifacimento dell'illuminazione su via Maroncelli e basta questi sono i finanziamenti vediamo se riusciamo a fare un po' di situazioni intorno con le rimanenze secondo messaggio bravissimo Michele secondo messaggio perché sono anche lunghi a proposito di Dossi in via Montecengio abbiamo la segnalazione zona 30 e non la rispetta ovviamente nessuno a cosa è servito fare quella segnaletica sulla strada se non abbiamo controlli? meglio i Dossi ecco vede che ci sono anche quelli che richiedono i Dossi come le dicevo prima come sempre è così e il tema è sempre quello perché la gente non rispetta i limiti di velocità e dobbiamo ancora io mettevo una telecamerina e quindi vuole terminare la risposta a questa? no e quindi servono strumenti di dissuasione adesso mi segno questo intervento andiamo anche a vederlo lì abbiamo tolto c'era una sequenza di tre Dossi dove abbiamo avuto petizioni di cittadini che ci chiedevano di toglierli anche i mezzi di soccorso ci hanno pregato di eliminarli e questo è un intervento che abbiamo fatto 4-5 anni fa e quindi di quei tre Dossi ne abbiamo ottenuto uno solo perché in effetti la strada è una strada che è stretta è dritta e quindi insomma soprattutto quando è libera si tende a correre altro messaggio Elisabetta ad una persona disabile totalmente cieca che vive in una casa del comune c'è la possibilità di intervenire per un rifacimento della doccia in modo tale che possa lavarsi dignitosamente come un essere umano? abbiamo un caso così alla Stanga nelle case di via Marroncelli non so se è questo quindi io tengo come dire l'annunimato e in questo caso se la casa del comune bisogna rivolgersi ai nostri uffici del settore edilizia residenziale pubblica che hanno ogni anno un budget per la sistemazione degli appartamenti e lì come avviene in ogni conduzione insomma dipende poi dai tipi di lavoro i lavori la manutenzione straordinaria è in capo al comune quella ordinaria è in capo a chi ci vive quindi qua bisogna capire però il consiglio che do è di rivolgersi all'ufficio al settore edilizia residenziale pubblica altro messaggio non ricordo se è il quarto o il terzo nelle rotonde in città le auto non mettono le frecce creando situazioni pericolose e non si vedono mai i vigili a controllare il traffico io invito tutti gli automobilisti insomma a usare le frecce le rotatorie hanno abbassato il numero di incidenti negli incroci cittadini premiando anche poi la fluidità del traffico la diligenza dell'automobilista è importante è impensabile avere un vigile per ogni per ogni rotatoria certo è che i nostri agenti quando vedono comportamenti scorretti insomma io mi auguro che sanzioni non lo so che lo fanno insomma abbiamo alle volte appelli a tenerli meno ma io sono perché invece il vigile come dire sia rigoroso nel rispetto del codice della strada già vettere all'ultimo finiti i messaggi siamo quasi in chiusura parco iris parco iris una bella delibera approvata ieri l'assessore e l'assessore ragona hanno di fatto concretizzato il primo stralcio dell'avanzamento del parco iris dove noi abbiamo agganciato due migliori da PNRR per l'aumento del parco iris oggi è sei ettari e mezzo con il primo stralcio arriviamo a sedici ettari e quindi si concretizza diciamo un po' l'ambizione che si aveva di allargare il parco iris ed evitare le nuove edificazioni questa delibera consente questo quindi diciamo che questo parco sarà uno dei polmoni verdi della nostra città di cui insomma possiamo andare fieri ma anche come dire goderne degli spazi in più che avrà tra poco ecco palazzo Foscariri avete fatto un approvato in forma temporanea nel cambio di destinazione d'uso di palazzo Foscarini e di proprietà di intesa San Paolo da direzionale a didattica amministrativa il Polini sarà restaurato per 2 milioni e 8 tra fondi statali ed intesa una volta sistemato palazzo Foscarini a spese di intesa ne affitterà un'ala quindi eccolo qui brava Elisabetta che ce lo fa vedere esatto siamo in piazza Eremitani questo è un bel esempio di rapporto pubblico privato dove anche il privato intesa San Paolo insomma fa una bella opera per la città e per il nostro conservatorio e quindi con questo accorgimento urbanistico Palazzo Foscarini potrà ospitare la didattica del conservatorio quindi dando nuove opportunità alla nostra scuola di musica e consentendo visto anche il finanziamento da parte dello Stato l'inizio dei lavori di sistemazione dell'attuale conservatorio Siamo in chiusura ovviamente la televisione come le dicevo a dei ritmi non le ho chiesto delle mura del Casa Pound delle asfaltature della nuova castura della nuova stazione dell'arco di Giano del progetto Arcella delle piastre sportive del risparmio energetico Quanti secondi ho per rispondere a tutto Lei ha capito quante domande per quello delle volte le do fretta Ma lei ha ragione non abbiamo risposto Io chiedo scusa se le volte è la passione che però mi porta No ma è giusto è giusto far capire spiegare come lo sta facendo lei però la televisione è un'ora di spazio i tempi dovrebbero ovviamente collimare con la scaletta preparata che poi puntualmente va in fumo Comunque grazie davvero vice sindaco Andrea Michalizzi Buon lavoro so che è un momento come diceva lei all'inizio un po' particolare io mi avrò superato in maniera brillante come sicuramente sapete fare dunque grazie di essere venuto questa sera Grazie E vi saluto i telespettatori do appuntamento a martedì prossimo con un'altra puntata del Sindaco Risponde Buona serata Grazie a tutti i nostri spettatori